La serie OnStage rappresenta da diversi anni un punto di riferimento fondamentale nel mondo delle docking station per iPod ed iPhone, con modelli che hanno riscosso notevoli successo sul mercato. JBL ha da poco presentato due nuovi modelli della serie, OnStage 4 e OnStage Micro 3. Si tratta chiaramente di due docking station in grado di riprodurre i brani musicali memorizzati sul nostro iPhone o da iPod e nel contempo di ricaricare il nostro amato lettore portatile. Colpisce immediatamente l'aspetto innovativo e moderno. I designer JBL hanno denominato queste forme che ricordano la trama di un tessuto Weave Design, ovvero forma di intreccio, frutto di una approfondita ricerca sulle più recenti tendenze in fatto di architettura e design. Questa forma particolare porta anche dei vantaggi dal punto di vista acustico. Gli speaker sono posizionati in modo da ottenere una diffusione sonora uniforme con una distribuzione spaziale a 360 gradi, in modo da avere un'ottima resa sonora indipendentemente dalla posizione dell'ascoltatore. Altro tocco di stile, una luce LED bianca illumina il nostro iPhone quando è posizionato nella docking, con un effetto visivo davvero elegante. Onstage 4 e Onstage Micro 3 sono dotati di un compatto telecomando per navigare i menu del nostro iPhone o da iPod e funzionano sia batteria che corrente. Sarà dunque possibile condividere la nostra musica preferita con tutti i nostri amici anche in viaggio o all'aperto. Il volume è regolabile anche direttamente sull'unità tramite questi tasti, mentre sul retro del prodotto troviamo tutte le connessioni, alimentazione, un ingresso audio ausiliario jack 3.5 per poter utilizzare qualsiasi altra sorgente sonora ed un comodo ingresso USB per poter sincronizzare il nostro iPod o iPhone con iTunes direttamente tramite il nostro Onstage. Onstage 4 e Onstage Micro 3 di dimensioni più compatte sono disponibili nelle colorazioni bianco o nero e non aspettano altro che il vostro iPhone.